Un saluto a tutti i lettori di readball.com, oggi video confronto, parliamo infatti di smartwatch e tempo di battaglia fra Samsung Gear Live ed LG G Watch, due smartphone che non sono smartphone ma sono smartwatch. Un saluto a tutti i lettori di readball.com, oggi video confronto, infatti è tempo di battaglia fra smartwatch. Samsung Gear Live, questa è l'LG G Watch, contro LG G Watch, questa è il Samsung Gear Live, perfetto. Due smartwatch molto simili, con lo stesso sistema operativo a bordo, parliamo infatti di Android 2, ma due target di utenza diversi e due concetti di fare lo smartwatch molto differenti. Andiamo quindi a scoprire quali sono tutte le caratteristiche, le differenze e tempo di video confronto su readball e oggi è battaglia di smartwatch. LG G Watch contro Samsung Gear Live, due smartphone... no, che miseria. E' tempo di video confronto su readball e oggi vediamo una battaglia fra smartwatch LG G Watch contro Samsung Gear Live, due smartwatch molto simili, con lo stesso sistema operativo a bordo, ma due concezioni diverse di fare l'orologio a causa di due aziende... Macca miseria... Quindi per il momento è tutto, dal nostro video confronto, se il video vi è piaciuto non dimenticate di condividerlo con i vostri amici sui social network e soprattutto di mettere mi piace e poi commentare qui su YouTube oppure sulla... Sulla bla 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 Grazie per la visione!